Dalle Lupanare, Sexy Shop, Eros fuori e dentro Pompei, riapre il Tempio del Sesso in Via Plinio, fatto chiudere dal Comune a novembre, poiché è abusivo rispetto a quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento Municipale per le Attività Commerciali, che vietava e tuttora vieta l'apertura di Sexy Shop e Pornoshop sul territorio comunale. Lo Store del Piacere e dei Vizietti, ad appena quattro passi dal Santuario Mariano, riprende dunque regolarmente la sua attività in self-service e con apertura H24, un negozio a luci rosse che divide i cittadini tra tolleranti e bigotti. Nel 2017 non c'è nulla da scandalizzarsi, anzi io sarei favorevole anche ad aprire i casi di appuntamento. C'erano le Lupanare nell'antica Pompei Romano. Una città come Pompei, che è dedicata alla Madonna del Rosario, che è un'istituzione mondiale come la Lourdes o la Fatima, è un po' fuori luogo. Nell'era di oggi non c'è nulla da meravigliarsi, quindi tutto nella normale amministrazione. Penso che sia un po' uno sconcio, meglio essere più puritani da questo punto di vista. Ognuno può aprire sempre nei limiti della decenza. Scandolo vicino a una chiesa, non è una cosa buona, è meglio essere più lontano in città della chiesa. Se fai una visita agli scavi con tua moglie, visiti le Lupanare, esci fuori, ti viene voglia di fare un ciro erotico, ti compri qualcosa, sai che si scioppa, non c'è nulla di male.